Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. La situazione lavorativa in regione si fa sempre più difficile, aziende che chiudono, lavoratori in cassa integrazione o licenziati ed è al lavoro che non c'è che la nostra emittente ha dedicato il nuovo spot di comunicazione sociale. Allora vediamo la presentazione con il commento del nostro direttore Manuela Petescia. Nel Molise non c'è lavoro e lo sapevamo. Nel Molise non c'è lavoro e quel poco che c'era, Paolo Di Laura Frattura lo ha sterminato. 7.700 posti perduti in un anno. Altri 5.000, dicono le previsioni, si perderanno nei prossimi mesi. Chiude tutto. Chiudono i vecchi colossi dell'industria e le piccole botteghe artigiane. Chiudono i bar e i negozi, i grandi marchi e le imprese a conduzione familiare. E chiude tutto per un motivo molto semplice e molto triste. In una regione storicamente straziata dalla povertà, dalla scarsità di risorse e dall'assenza di infrastrutture, decidere a tavolino il taglio dei finanziamenti pubblici senza prima aver progettato e soprattutto collaudato un piano di sviluppo alternativo. Che so, magari uno di quelli sbandierati in campagna elettorale per intercettare i voti è un suicidio. L'economia del Molise che cammina con le proprie gambe era uno dei principali slogan di frattura fatto proprio. Dai lobbisti e dagli aggregati al tavolo del vincitore. Liberali della pasta asciutta, appaltatori e fornitori con i portafogli gonfi di denaro pubblico. E adesso la vediamo questa economia indipendente priva di stampelle. La vediamo e possiamo anche filmarla con le nostre telecamere. Una schiera di padri e madri di famiglia che cammina con le proprie gambe, appunto, verso casa. Seguiti questi padri e madri di famiglia da una schiera di giovani che marciano, anch'essi con le proprie gambe, verso i muretti delle ville comunali. O verso un treno, che magari li conduca il più lontano possibile dalla loro terra, ammesso che i treni in Molise funzionino. E visto che frattura ha dimenticato perfino di depositare i bandi per l'accesso al piano di lavoro giovanile, varato dal governo. Chiudono le aziende della regione e tacciono i sindacati. Anzi no, i vertici della triade trovano il tempo per dire qualcosa. Non di certo contro i responsabili di questo sfascio, bensì contro Telemolise. Colpevole, Telemolise, di aver omesso di elencare in occasione della fulgida giornata del primo maggio le formidabili iniziative intraprese da loro nell'ultimo anno. Telemolise chiede scusa, ma non ce ne eravamo accorti. E non ce ne eravamo accorti perché ormai i sindacati, o meglio, i loro vertici, i loro dirigenti, vivono impantanati tra l'equivoco e l'imbarazzo. L'equivoco e l'imbarazzo di confrontarsi con un'amministrazione cosiddetta di sinistra. Che bello. Peccato che i volti con cui concertano le iniziative sui vari tavoli siano quasi sempre gli stessi del recente passato. I volti dei padroni dell'energia, dell'edilizia e delle bande più o meno larghe, ma è meglio far finta di niente. C'è rimasta solo quella di sinistra. La parola. Eppure tanto basta a spegnere i toni di un dibattito che in altri tempi sarebbe stato feroce e magari avrebbe impedito al governatore in carica di attuare scelte sciagurate e di provocare una disoccupazione che in questa regione definire oscena è poco. E a breve, come se non bastasse, nel tritacarne della disoccupazione indotta dal Vangelo secondo Frattura, quello dell'economia che cammina, anzi sprofonda, con le proprie gambe, finirà anche l'Università degli Studi del Molise. Tanto i figli dei ricchi potranno proseguire i loro studi in altre regioni. I figli dei poveri studieranno sul solito muretto della villa comunale o, in alternativa, potranno fare i muratori nei cantieri edilizi delle torri gemelle, dove i lavori sono ripresi alla grande. E così sia. O si procede da soli o niente. Ci piacerebbe indovinare a questo punto se il discorso sarà esteso anche, per esempio, alle iniziative di Union Camere, sempre generosamente finanziata da mamma regione, quando alla presidenza di quell'ente c'è la propria frattura. E perché no? Se il discorso sarà esteso, per esempio, al Neuromed, per vedere se è capace di camminare con le proprie gambe, senza stampelle, senza agli nuti pubblici. Fatto sa che Telemolise, in 30 anni di attività, non ha mai registrato tanta miseria, tanta disperazione e, allo stesso tempo, tanta inerzia e tanta inefficienza amministrativa. Per la verità, non ha mai nemmeno registrato tanta spocchia e tanta presunzione e indifferenza di una classe politica al grido di dolore della propria terra. L'ha registrata oggi questa disperazione e l'ha trasformata in uno spot di comunicazione sociale, gratuito, come gratuita è sempre stata la partecipazione della TV al dolore e al disagio della sua terra. Ed ora vediamo in anteprima lo spot di comunicazione sociale che accompagnerà le nostre trasmissioni nei prossimi giorni. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Se non c'è il lavoro, non c'è famiglia, non c'è dignità, non c'è democrazia. No, 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 you'll never know, no, 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 I responsabili della Santa Sede oggi a Campobasso hanno effettuato un sopralluogo per la visita del Papa. A bordo anche Monsignor Sapienza che insieme all'Arcivescovo Bregantini ha verificato il percorso e i luoghi che dovrebbero ospitare Papa Francesco. Sentiamo Enzo Luongo. Erano da poco passate le 14.30 quando l'elicottero dell'aeronautica militare è atterrato sul terreno di gioco del vecchio Romagnoli. Un blitz, quello della Santa Sede a Campobasso, durato un paio di ore per studiare i dettagli della visita del Papa in città il prossimo 5 luglio. A bordo Monsignor Leonardo Sapienza, figura vicinissima al Santo Padre e altri uomini arrivati dal Vaticano, tra questi i responsabili della sicurezza del Pontefice. Sapienza ha trovato ad attenderlo Monsignor Giancarlo Bregantini, che dopo averlo salutato gli ha spiegato l'ipotesi di programma attorno alla quale si sta lavorando, tra il centro della città e lo stadio di Selvapiano. E dal cattelvetroso con la macchina si scende giù a... La delegazione è poi salita su un pulmino. Sapienza ha chiesto infatti a Bregantini di fare esattamente lo stesso percorso che si pensa di far fare a Papa Francesco. Quindi tappe nel centro cittadino, in cattedrale, poi visita allo stadio, infine alla mensa dei poveri. L'elicottero è ripartito da Campovasso intorno alle 16.30, con destinazione prima a Castelpetroso e poi Isernia, che sarà l'ultima tappa del viaggio del Santo Padre in Molise. Con Monsignor Sapienza, che lasciando la città non ha voluto rilasciare dichiarazioni, a bordo dell'elicottero è partito anche Bregantini. Per l'occasione, folla di curiosi attorno al vecchio stadio con tante persone che hanno atteso il decollo dell'elicottero per scattare qualche fotoricordo, con tanto di imprevisto finale. E adesso apriamo l'ampia pagina dedicata alle prossime elezioni. Parliamo dell'iniziativa dei vari candidati che si susseguono a Campobasso. Oggi Michele Scasserra, candidato sindaco per il Polo Civico, ha illustrato la sua visione sul Masterplan e la sede della regione. Giovanni Minicozzi. Masterplan e riqualificazione urbana. Parte da qui il programma elettorale del candidato sindaco del Polo Civico, Michele Scasserra, ma continuerà con altri gruppi di lavoro specifici che affronteranno tutti i temi per rilanciare il ruolo della città capoluogo di regione. Questa è la prima conferenza stampa tematica che intendiamo effettuare proprio sui temi del Masterplan. e sulla riqualificazione urbana, quindi sul discorso urbanistico. Ci sono diversi gruppi di lavoro all'interno della coalizione. I temi si stanno snocciolando con l'ascolto delle persone. E sembra giusto iniziare a parlarne in maniera un po' più compiuta per rendere nota alla cittadinanza e anche agli elettori le intenzioni, i programmi, i progetti e le idee della nostra coalizione. Le proposte in materia di urbanistica e di masterplan sono state affidate al capolista del Polo Civico, Michele Coralbo, che ha puntato il dito sui possibili conflitti di interessi e sulla necessità di bloccare qualsiasi decisione in attesa della nuova amministrazione. In regione devono smetterla di gestire la città come se fosse una questione privata o di interesse di pochi soggetti. Campobasso rimane dei campobassani e quindi su un intervento come quello del Masterplan e quello dell'urbanistica in generale chiediamo che ci sia un coinvolgimento più ampio della cittadinanza e soprattutto delle categorie che sono direttamente interessate. Siamo contrari all'ennesima colata di cemento sull'ultima area verde presente sul territorio comunale e siamo ancora più contrari alla realizzazione di un centro commerciale camuffato sotto mentite spoglie che andrà notevolmente a deprezzare quelle che sono le attività presenti nel centro murattiano e andrà a decretare la parola fine e la parola morte su quello che può essere il microcommercio, la microeconomia che coinvolge il centro cittadino. Le proposte del Polo Civico quali sono invece? La proposta del Polo Civico è questa, innanzitutto di sospendere in autotutela la delibera regionale che prevede il nuovo concorso di idee, attendere l'elezione del nuovo sindaco ma soprattutto ampliare la partecipazione dei cittadini per realizzare una sede regionale a cemento zero. Dove è la sede della regione? La sede della regione può essere realizzata con molta semplicità recuperando ciò che è presente sul territorio, innanzitutto recuperando la struttura del Roxy che unitamente a quella di via Genova già in attività può soddisfare la maggior parte dei servizi necessari alla regione. Qualora ci fosse necessità di ulteriori spazi voglio ricordare che sono disponibili immediatamente sul territorio comunale la struttura dell'ex GIL che è di proprietà regionale nonché attivare una trattativa con il Ministero per recuperare i volumi del distretto militare che sono scarsamente utilizzati. Intanto brutta avventura per il commissario di Forza Italia in Molise Gianfranco Rotondi, l'ex ministro ha annullato un'iniziativa elettorale a Perugia durante la quale uno sconosciuto è stato fermato mentre brandiva un coltello con fare minaccioso. A Rotondi sono arrivati diversi attestati di solidarietà anche dal mondo politico molisano. E in piazza a Campobasso il PD ha presentato la lista a sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra Antonio Battista. C'erano tra gli altri anche il parlamentare Roberto Ruta e il governatore Frattura. Anna Maria Di Matteo. Ha scelto la Villa dei Cannoni il PD per presentare la lista che sosterrà il candidato sindaco del centro-sinistra di Campobasso Antonio Battista. 32 candidati di cui 12 donne, molti volti noti della politica locale, molti giovani a comporre una lista che rappresenta tutte le fasce sociali e di età della città. La presentazione nello stile è inaugurato proprio dal PD e da Roberto Ruta all'aperto in un giardino per l'occasione inondato dal sole. Siamo pronti, dovremo essere risoluti e prenderci le responsabilità per trasformare questa città. Lo faremo attraverso me, attraverso questi candidati oggi del Partito Democratico e i candidati di tutte le 11 liste che appoggiano la mia candidatura e ovviamente con gli eletti. Ma terremo conto delle opinioni dei partiti, terremo conto di tutte le opinioni che in città si realizzano, una concertazione territoriale. Una lista che comunque sta particolarmente a cuore perché lei ha il comune di Campobasso e il capogruppo del PD, quindi magari si stanno ancora di più a casa sua stamattina. Decisamente sì, anche se la mia casa oggi sono le 11 liste, però non posso che ricordare come la mia esperienza politica, l'ultima soprattutto, si è svolta tutta all'interno del PD. Un PD che con molta modestia ho contribuito anche a far crescere e a sviluppare. Oggi ovviamente sono emozionato, ma sono anche orgoglioso di essere qui insieme a tanti amici proprio del Partito Democratico. Un punto del programma di governo che sta particolarmente a cuore al Partito Democratico? Lavoro e giovani, ovvero sviluppo del territorio, ovvero rigenerare l'economia cittadina. Restiamo a Campobasso, restiamo nel centro-sinistra perché è stata presentata la lista del centro-democratico che sostiene la candidatura di Antonio Battista. Sentiamo. Il centro-democratico, una delle anime moderate del centro-sinistra, scende in campo anche a Campobasso. Al fianco del candidato sindaco Antonio Battista, un partito quello guidato da Bruno Tabacci, candidato alle elezioni europee, che intende dare il proprio contributo alla rinascita e allo sviluppo di una città letteralmente ferma, è stato detto nel corso della presentazione della lista. Il centro-democratico è presente nel Parlamento con i nostri deputati e ha voluto essere presente in qualità di forza di centro nel centro-sinistra delle amministrative di Campobasso. Nella vostra lista ci sono anche esponenti dell'area moderata di centro-destra. Guardi, questo è un processo inevitabile perché nei momenti in cui si vogliono spostare i voti da destra a sinistra è necessario che ci sia uno spostamento di candidati, altrimenti questi voti da soli non vengono. I voti, sì ci stanno i voti di opinione, ma i voti vengono anche pericolati dalle idee dei candidati che evidentemente non trovano più una loro collocazione ideale nel centro-destra, che è inutile dirlo, è inutile ricordarlo, dando lo spettacolo che sta dando ultimamente. Quindi evidentemente molte persone si stanno di nuovo collocando nel centro. E quindi una moltitudine di candidati ha ormai avviato la campagna elettorale che agli osservatori appare più confusa che in passato. È il fenomeno della migrazione politica che caratterizza molte liste. Giovanni Di Totaro Da un lato Vendola e la sinistra dei puristi che arricciano il naso, il termine usato da Vendola è stato sinteticamente più forte, dall'altro l'Udc e gli equilibristi che stanno un po' di qua e un po' di là. Nell'Italia del bipolarismo diventato tripolare, orientarsi sulla scena politica diventa sempre più complicato. Ancora più difficile se nella ricetta ci si mette un pizzico di localismo, qualche parentela e un pugno di interessi. Accade che nelle liste in corsa alle elezioni comunali di Campobasso compaiano persone fino a qualche settimana prima collocate nello schieramento opposto. Elemento abbastanza lampante nel centrosinistra, a tal punto che uno dei partiti che della coerenza ha fatto una bandiera, ha rinunciato a candidare un ex assessore silurato in corsa dal sindaco uscente. Troppo evidente la contraddizione. Una piccola pattuglia di consiglieri ha trovato riparo nella lista del Partito Democratico e di qualche civica che sostiene la candidatura di Battista. La piccola burrasca in casa costruire democrazia ha sancito lo strappo tra Massimo Romano e Michele Durante, uno di qua e l'altro di là e ora se la rimbalzano. Fanno lo stesso in una tension familiar politica, quelli di rialzati molise. All'Europa si vota Forza Italia con il leader ricandidato a Strasburgo, alle molisane si sceglie chi meglio li aggrada, a prescindere dal colore. Sempre in Forza Italia l'ex governatore tiene per fitto, ma non per il parlamentare locale che appoggia in toto con il cognato, il presidente della regione in carica. A sua volta contestato indirettamente dal cognato di Sel che dà ragione a Nichi Vendola. In questo calderone si muovono centinaia di candidati, molti dei quali, per stessa ammissione, intravedono la soluzione istituzionale come un rimedio alla crisi e alla disoccupazione. La politica resta l'arte del possibile, qui si rasenta il miracolo. Restiamo in tema ma spostiamoci a termoli. Aumentare i fondi per le politiche sociali, puntare sul turismo come se fosse petrolio per la città, sono alcune delle priorità del programma elettorale del candidato sindaco del centrodestra al Comune di Termoli, Michele Marone. Fabrizio Occhio Nero. Sfruttare le potenzialità del turismo come se fosse un giacimento petrolifero scoperto in città. Dall'inizio della campagna elettorale il candidato sindaco di centrodestra, Michele Marone, sta insistendo su questo binomio con l'obiettivo di migliorare l'offerta. Presenze non solo legate al mare, ma anche agli eventi culturali ed enogastronomici, recuperando inoltre delle strutture esistenti per destinarle alla ricettività. Altro punto chiave del programma è l'aumento delle risorse al settore del sociale, alle politiche e della famiglia, facendo leva spiegato l'aspirante alla fascia tricolore sui fondi europei, se necessario sacrificando altri settori. Marone punta sull'ascolto e la partecipazione dei cittadini per dare voce ai disagi, di fronte ai quali, aggiunto, non si può più rimanere indifferenti. Tanti settori in crisi, dalla marineria al commercio, il candidato sindaco si propone di coinvolgere tutte le categorie per individuare gli interventi necessari. Piano regolatore, dragaggio del porto, recupero del collegamento con la Croazia, è una programmazione urbanistica che preveda non solo luce e marcia a piedi dove mancano, sono rotti, ma sia ricca di spazi verdi per trasformare termoli in una città, giardino. Sono diverse le proposte inserite nel programma di Marone, c'è la difesa del Santimotio, non possiamo accettare, ha osservato, che a livello regionale siano adottate delle scelte che penalizzino il nostro ospedale. Ci sono la tutela dell'ambiente, il recupero di un ruolo nel nucleo industriale, è un piano di sicurezza e legalità che prevede l'aumento dei controlli e della videosorveglianza nei punti critici e ancora continuare il progetto degli orti urbani, rivedere la raccolta differenziata e dare impulso a progetti legati alle nuove tecnologie anche nei servizi di trasporto. Si tratta di un programma ambizioso ma non è un libro dei sogni, ha concluso Marone, auspicando anche metodi innovativi per un'amministrazione vicina ai cittadini. Ed è stata presentata a Miranda la lista alternativa capeggiata dal candidato sindaco Daniel Colaianni, un giovane ingegnere informatico che capeggia una squadra composta tutta da giovanissimi. Ben sei candidati su dieci sono donne. Enzo Di Gaetano. La rivoluzione rosa della politica molisana sbarca anche a Miranda, dove è stata presentata la lista alternativa capeggiata dal candidato sindaco Daniel Colaianni, un giovane ingegnere informatico che capeggia una lista formata tutta da giovani, con ben sei donne su dieci candidati, un record per la politica molisana, spesso più maschilista di quanto si possa pensare. Colaianni, 34 anni ingegnere, con la passione dei robot e delle attrezzature medicali per aiutare i disabili, si propone di svecchiare la politica nel suo paese, voltando pagina sul passato. Il nostro progetto politico si pone come obiettivo quello di dare a Miranda un'alternativa, un'alternativa fatta da giovani, da giovani di ragazzi, ragazze con tanta voglia di fare, di impegnarsi per il bene della comunità, per il paese e aiutarci a scrivere un nuovo capitolo della storia di Miranda. Quali sono i punti fondamentali del vostro programma? I punti fondamentali del nostro programma sono sicuramente il rilancio dell'economia, quindi valorizzazione delle imprese locali, incentivazione alla creazione di nuove aziende, e rivalutazione del territorio, perché il territorio è la cosa più importante che abbiamo e va valorizzato attraverso percorsi turistici, rivalutazione del centro storico e di tutto quello che può portare persone a visitare il nostro bel paese e quindi creare sviluppo, occupazione. A fianco a questo porteremo avanti tematiche quali sono la trasparenza e la pubblica amministrazione, perché il paese è di tutti, il paese deve partecipare attivamente alla vita sociale, politica ed economica, porteremo punti di progresso, quali hotspot, wifi all'interno del paese, condivisione delle idee del paese sui social network, e quindi tutto quello che potrà servire per portare la popolazione ad essere più vicina all'amministrazione. Lasciamo la politica, veniamo alla cronaca. L'ex comandante regionale dei Carabinieri in Molise, il generale Ermanno Meluccio, e l'ex comandante provinciale, il colonnello Saverio Nuzzi, sono stati assolti oggi dal Tribunale di Larino dalle accuse di favoreggiamento e violenza privata. I due ufficiali erano stati denunciati per fatti accaduti tra il 2007 e il 2008, dall'allora comandante della compagnia di Termoli, il capitano Fabio Muscatelli, il militare che portò avanti la maxi inchiesta sulla sanità Black Hole. Entrambi erano accusati di aver agito per far sottrarre le indagini in questione a Muscatelli e di aver favorito alcuni indagati, tra questi il colonnello Maurizio Coppola, comandante provinciale dell'arma a Campobasso prima di Nuzzi. Meluccio e Nuzzi, entrambi difesi dall'avvocato Arturo Messere, sono stati assolti da tutte le accuse con formula piena, perché il fatto non sussiste. Hanno giurato in cento i carabinieri del 131esimo corso formati alla scuola allievi della caserma Frate di Campobasso. C'era per noi Tonino Danese. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e d'onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Sempre fedeli all'arma, alla patria e alla bandiera, hanno giurato i cento carabinieri formati alla scuola allievi della caserma Frate di Campobasso. 131esimo corso, intitolato alla memoria del carabiniere Raffaele Porrani, caduto da eroe sul fronte greco durante la Seconda Guerra Mondiale, si sono schierati di fronte al comandante della legione allievi Danilo Ottaviani a quello della scuola Antonio Renzetti e al comandante regionale dell'arma Giovanni Barbano, alle altre autorità e alla bandiera di guerra del decimo BTG Campania. I familiari hanno apposto loro sul petto gli alamari. Ora sono pronti per mettersi al servizio della gente i nuovi carabinieri per garantire la sicurezza dove verranno mandati, come fanno i militari dislocati sul territorio molisano. Con riguardo a questi aspetti di furti, rapine, vediamo anche come la risposta dell'arma sia in chiave preventiva che repressiva sia quanto mai aderente. Di fronte a quella che è la minaccia continua, costante e forse anche la recrudescenza di certe forme di criminalità, la risposta che perviene dai nostri reparti operativi è quanto mai aderente ed efficace. Proprio l'altro ieri a Isernia sono stati fermati dei pregiudicati che si accingevano ad effettuare dei furti e comunque vorrei anche, infine, tranquillizzare perché questi fenomeni a cui assistiamo e a cui la sensibilità della popolazione è molto attenta, dal punto di vista squisitamente statistico si mantengono in un trend che è inferiore a quello degli anni precedenti. Cioè, paradossalmente, il numero di furti è fortemente diminuito. Il numero dei carabinieri in Molise è assolutamente adeguato e corrispondente a quella che è la distribuzione dei carabinieri sul territorio nazionale. La scuola allievi di Campobasso continuerà a formare anche in futuro i carabinieri una cerimonia di giuramento semplice ma intensa, emozionante, per i nuovi carabinieri pronti ad affrontare un compito importante e delicato e per i loro familiari, orgogliosi e onorati. Ed è stata denunciata dai carabinieri di Campobasso per furto in abitazione una badante di 45 anni residente nel capoluogo regionale. La donna, approfittando dell'assenza della signora novantenne che accudiva, le ha sottratto alcuni monili d'oro per poi portarli ad un negozio di compro oro. L'anziana si è però accorta della sparizione dei preziosi, è andata in caserma per la denuncia e l'autrice del furto è stata quindi identificata. La rifurtiva è stata rintracciata e restituita alla proprietaria e la badante, 45enne, è stata denunciata. All'Iceo Scientifico di Sernia gli studenti hanno presentato i risultati di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Grazie a questa esperienza hanno realizzato una t-shirt che prossimamente sarà anche messa in commercio. Sergio Di Vincenzo. Grazie alla stretta collaborazione con la Camera di Commercio di Sernia ha cominciato a dare i primi frutti il progetto di alternanza scuola-lavoro che ha per protagonisti gli studenti del Liceo Scientifico di Sernia. Dopo aver studiato i meccanismi che regolano un'azienda, ne hanno creata una per conto loro, impegnata nella produzione di magliette. Le t-shirt che lanciano messaggi rivolti al sociale prossimamente saranno anche commercializzate. Il progetto è stato curato dalla docente Ida Di Anni. Abbiamo realizzato all'interno di questo progetto, il progetto alternanza scuola-lavoro, dunque un prodotto che è una t-shirt che va a coniugare i contenuti del progetto alternanza con quelli del progetto di scrittura creativa. Quindi realizzando la t-shirt che oggi indosseranno i ragazzi con la scritta Vivi legalmente, con una crocetta sopra. Questa maglietta poi porteremo all'interno del Salone Internazionale del Libro di Torino dove andremo a presentare anche il dizionario della legalità che abbiamo realizzato concorrendo attraverso la redazione di una lettera di questo dizionario. Per il dirigente scolastico Eugenio Silvestre un progetto del genere diventa più che mai importante al giorno d'oggi specialmente in un liceo scientifico dove iniziative del genere tutto sommato rappresentano una novità. È importantissimo soprattutto con i tempi che corrono è importante soprattutto in un liceo scientifico mentre l'istituto tecnico rientra diciamo quasi nella normalità in un liceo scientifico costituisce un impegno aggiuntivo che comunque i nostri ragazzi portano avanti da qualche anno vengono interessati da questo progetto che grazie agli enti, alle associazioni e ai singoli professionisti riesce ad andare fino in fondo con grossi risultati da parte dei ragazzi. C'è una parte teorica di formazione poi c'è una parte pratica gli enti, le associazioni, le imprese, gli studi professionali a vario titolo mettono a disposizione le loro risorse perché questi ragazzi vivono un'esperienza non solo durante l'anno scolastica ma anche durante i periodi estivi presso i comuni per esempio di residenza Ed è stata presentata alla Biblioteca Albino di Campobasso l'opera dedicata alla scrittrice di origini molisane Lina Pietravalle due libri scritti dallo storico Renato Lalli e da Gabriella Iacobucci Sentiamo Nacque nel 1887 a Fasano ma la famiglia era originaria di Salcito dove i Pietravalle erano stati anche fedotari considerò come propria la terra di origine dei suoi genitori quel piccolo molise di fine ottocento e in particolare il paese di Salcito nel quale è ambientato anche il suo romanzo Le Catene Adesso il suo molise ha voluto rendere omaggio a Lina Pietravalle con una doppia opera due libri racchiusi in un cofanetto Il primo, opera postuma dello storico molisano Renato Lalli è un saggio introduttivo a Il Molise un discorso che la scrittrice Lina Pietravalle pronunciò a Firenze Il secondo, dal titolo Incontri con Lina Pietravalle l'autrice Gabriella Iacobucci ha immaginato un'intervista scritta per la RAI Quello che ne viene fuori, come ha sottolineato anche Antonella Presutti che ha moderato l'incontro che si è svolto nella sala della biblioteca Albino di Campobasso è l'animo nobile della scrittrice amante del Molise Nonostante ciò la sua penna era aspra e dura ha sempre commentato la critica letteraria un animo maschile albergava nella Pietravalle il collegio, i lutti, le separazioni la morte del suo unico figlio avevano scalfito il suo cuore ma lei fu una grande donna oltre ad essere una brava scrittrice ha commentato ancora Antonella Presutti durante l'incontro in una sala gremita che ha voluto rendere omaggio a Lina Pietravalle Evento internazionale al Teatro del Loto di Ferrazzano per l'apertura di Cera una volta primavera teatrale sul palco arriva il pianista Chris Jarrett fratello di Keith mostro sacro della musica mondiale e leggenda vivente del jazz si annuncia il pienone dunque per l'evento organizzato da Stefano Sabelli per domani sabato alle 21 che vedrà protagonista insieme a Jarrett anche il violinista Luca Ciarla compositore e pianista di fama internazionale Chris Jarrett fratello minore solo d'età del grande Keith incontra dunque a Loto il mago giramondo del violino e dell'improvvisazione Luca Ciarla per un duo originalissimo al confine tra jazz e musica contemporanea questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci seguito a tutti voi una cordiale buonanotte grazie per averci seguito